Stamani abbiamo trovato, a parte i soliti rifiuti di plastica, carte, bottiglie di vetro, ma stamani è stata la particolarità, abbiamo trovato un computer, due cellulari e due bombole del gas. Altre volte abbiamo trovato pneumatici, abbiamo trovato bidet, water e purtroppo è così. Vediamo se riusciamo a sensibilizzare più persone possibile in modo che questo non accada più. Puliamo insieme si chiama così l'iniziativa di un gruppo di cittadini del comune di Civitella in Valdichiana che un bel giorno hanno deciso di impiegare una parte del loro tempo libero per ripulire il territorio dai rifiuti. Circa 50 coloro che fanno parte del gruppo e che ogni domenica mattina, a seconda delle varie disponibilità, partono in spedizione in ogni angolo del territorio. Camminando sentiamo dei rumori strani e capiamo che è la plastica che troviamo. Ti faccio vedere, guarda, queste qui ci ho trovato, l'ho riprese tutte sotto i piedi, sotto i miei stivali sentivo tutti questi rumori. Hanno iniziato da Cigiano perché il progetto è nato proprio all'interno della Proloco del paese. Qui li vediamo al lavoro invece nella zona di Tegoleto, un progetto supportato anche dall'amministrazione comunale. L'ho proposta io nell'ambito della Proloco di Cigiano perché viaggiando per le strade mi dà fastidio, ma non oltre il fastidio vedere quello che la gente butta sulle strade, sui boschi eccetera. Ovviamente il Consiglio della Proloco l'ha sposata immediatamente, ci siamo fatti i promotori insieme all'amministrazione di organizzare un qualcosa. È venuto fuori un gruppo che tramite WhatsApp, col passaparola, un po' di volantinaggio, un po' con i social, abbiamo fatto già 50-60 aderenti. La nostra intenzione è anche dare l'esempio a chi ci vede affinché promuova e soprattutto vedendo noi pulire pensi anche a non sporcare. Occorre fare un cambio veramente di passo culturale perché non si può più vedere i fossi pieni di ogni cosa, da bottiglie di vetro a sedie, troviamo le bombole del gas, di tutto veramente. Quindi sì, facciamo il Friday for Future, è importante, però ogni giorno, nei nostri piccoli comportamenti, cerchiamo davvero di differenziare e rispettare questo ambiente. In tutto dai 40 ai 50 quintali di rifiuti finora raccolti. La Proloco di Cigiano è molto attenta a questi valori. Noi ci definiamo una Proloco non solo sagre, ma ci occupiamo anche di cultura, facciamo gite presso musei, ci occupiamo appunto di ecologie con giornate come oggi, ci occupiamo di solidarietà aiutando delle volte delle persone che sono in difficoltà. Credo che una Proloco debba essere questo, oltre alle tradizionali feste che sicuramente anche noi cerchiamo di fare, incrementare perché servono per tenere il paese. E quindi invitiamo tutti quelli che vogliono partecipare a queste domeniche a visitare il sito della Proloco, dove troveranno il numero per poter aderire a questa iniziativa. E ringrazio anticipatamente. Insomma, basta poco per voler bene. È un'iniziativa, perde due ore la mattina. È un bel gruppo, c'è l'amicizia e la collaborazione dell'educazione più che altro. Grazie.